Ciao a tutti, io sono Elena e oggi in questo video vi mostrerò come noi di CPL emulsioniamo un telaio. Per prima cosa, logicamente, bisogna avere un telaio tesato. Qui abbiamo un telaio a 55 fili, che è una filatura media, quindi non è né troppo sottile né troppo spessa la tela. E questa cosa è importante saperla perché lo strato giusto da stendere sul telaio deve essere spesso all'incirca quanto lo spessore della nostra tela. La prima cosa che noi facciamo quando emulsioniamo è pulire il telaio, soffiarlo, in modo da togliere tutta la polvere e i residui che ci sono accumulati e che quindi possono dare fastidio nel momento in cui andiamo a stendere la gelatina, creando delle zone non uniformi. Noi utilizziamo l'aria compressa perché è il metodo più veloce, anche proprio in produzione, per fare più telaio uno dietro l'altro. Se uno, logicamente, a casa non ha un compressore e non ha questa possibilità, può utilizzare la manichetta della doccia e lavare semplicemente il telaio con l'acqua, senza utilizzare né saponi né sgrassanti. Questo perché se utilizziamo un qualche tipo di prodotto sulla nostra tela, di conseguenza poi l'emulsione che ci andremo a stendere potrebbe non attaccarsi in maniera uniforme e quindi creare delle macchie che ci potrebbero dare fastidio in fase di incisione.